In occasione dell'ultima uscita di Kate Middleton, ecco che spunta un dettaglio che vede proprio come protagonista lei e il principe William. C'era grande attesa per il ritorno di Kate Middleton, donna che dopo aver annunciato a tutti di soffrire di un terribile male che sta curando, non si era fatta più vedere in pubblico. Ed è per questo motivo che l'evento che si è tenuto lo scorso sabato è stato uno dei più seguiti. Questo è ciò che è avvenuto nel corso della parata del Trooping The Color, in cui la famiglia reale, alla cui guida c'era William a cavallo, ha dato tutto il suo sostegno, Kate Middleton, in occasione del suo ritorno ad un evento pubblico. Sono trascorsi sei mesi da quando Kate Middleton, è stata vista per l'ultima volta in un evento pubblico. Il suo sorriso inconfondibile è stato di sicuro uno di più attesi, una presenza che ha reso la parata per il compleanno del sovrano ancora più bella. Ma ecco che i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare quel dettaglio tra Kate Middleton, e il principe William. Ma di cosa si tratta? Il dettaglio che fa piangere tutti in occasione dell'ultima uscita di Kate Middleton. Kate Middleton è stata lontana dalle scene proprio per sottoporsi alle cure necessarie per sconfiggere quel tumore che le è stato diagnosticato a seguito dell'operazione a cui si è sottoposta. Nonostante ciò, in occasione del compleanno del sovrano, si è unita a re Carlo insieme ai suoi tre figli e all'amato marito il principe William. È stata lei stessa ad annunciare la sua presenza all'evento tramite un messaggio strappalacrime. Non vedo l'ora di partecipare al Trooping the Color, per il compleanno del re questo fine settimana con la mia famiglia e spero di poter partecipare a qualche impegno pubblico durante l'estate. Anche se so che non sono ancora fuori pericolo. Come sempre, al suo fianco non poteva non mancare il principe William, il quale di sicuro è stato molto felice nel vedere la principessa Kate di nuovo con lui in un evento pubblico. Infatti, a testimoniare questo suo sentimento, è anche quel dettaglio che non è sfuggito ai più attenti. Infatti, in molti hanno notato quello scambio di sguardi che la coppia si è rivolta, e al cui interno c'è tutto l'amore e l'affetto che da sempre li contraddistinguono. Infatti, Kate e William nonostante i numerosi problemi, appaiono più uniti che mai. Infatti, è stata la stessa Kate Middleton a sottolineare, in occasione di quel messaggio in cui annunciava a tutti del suo stato di salute, che, avere William al mio fianco è stata una grande fonte di conforto e rassicurazione.